Renato Cioffi, un debutto da incorniciare, un finale thrilling ma la Casertana non ha mai rischiato veramente. Innanzitutto voglio fare i complimenti a Nola perché si è battuto fino alla fine, quindi un derby degno non di questa categoria onestamente, ma non solo in campo ma anche sugli sparti perché complimenti alla nostra tifoseria numerosa, già la prima, e poi ho visto anche un forto pubblico di Nola, quindi il vero derby che una volta si faceva in categoria superiore. Quindi complimenti a loro e complimenti alla mia squadra perché non era facile dopo sette giorni iniziare un campionato e giocare a questi ritmi perché nonostante il caldo, nonostante la nostra condizione che tutti sapete e che non deve essere un alibi, abbiamo fatto secondo me un'ottima calda dove abbiamo avuto delle grosse occasioni e dove anche abbiamo subito perché il nostro partito ha fatto un paio di interventi, ha parato un rigore, però questo fa parte del gioco e gli errori li dobbiamo limare sicuramente. Pochi allenamenti nelle gambe, però questa Casertana vince e piace, l'importante era partire con il piede giusto e voi ci siete riusciti. Certo, l'importante è fare un gol o più degli altri, mi rode subire due gol onestamente perché non c'erano proprio nell'aria e quando si subisce a me dà proprio fastidio. Andremo a lavorare su questo, sul reparto, sulla squadra, però devo dire comunque complimenti perché fino alla fine hanno cercato di dare il massimo, è normale che a un certo punto della partita il Nora aveva qualche cosa in più nelle gambe e ci ha messo un attimo in difficoltà in mezzo al campo come possesso, però diciamo che abbiamo rischiato poco, poi abbiamo fatto un errore, abbiamo subito il secondo rigore, ma comunque complimenti ai miei. Si intravedono però segnali positivi, lei può essere abbastanza ottimista? Certo, adesso inizio a conoscere meglio pure il singolo. Oggi abbiamo giocato con un 4-4-2, poi abbiamo giocato con un 4-2-3-1, abbiamo giocato con un 4-4-1-1 a un certo punto con Chietti Dietasarli, poi abbiamo finito la partita con un 4-5-1, quindi questo mi fa sperare, i numeri non servono a niente, però voglio fare i complimenti, ci tengo a dirlo questo perché i ragazzi in qualsiasi posto del campo li mettono il massimo impegno. E adesso domenica c'è una sorta di esami di maturità con la Turris? Sì, è già una partita importante, come può essere quella con la forza ecologica la domenica successiva, con il nodo, sono tutte importanti, noi dobbiamo pensare a prepararci bene e a cercare di fare la nostra partita anche contro una squadra attezzata per vincere il campionato.